Musica Dobbiamo passare subito all'ultimo intervento di questa sera che è un intervento affettivo e quello della nipote Margherita che vuole raccontarci qualcosa della sua memoria personale per il nonno La prima cosa che mi viene in mente che forse mia sorella già sapeva e che io non sapevo è che questo nonno mio era un nonno speciale Quando io ero bambina ero assolutamente convinta che i nonni fossero tutti come il mio Poi crescendo, cominciando a sentire come se ne parlava in famiglia sui giornali eccetera ho cominciato a capire che proprio uguale non era Ma è stato proprio in questi ultimi due anni in cui dovendolo portare di nuovo riconsegnare al suo pubblico che con mia sorella abbiamo lavorato abbiamo digitalizzato abbiamo dovuto leggere la quasi totalità delle opere e parlo di quelle pubblicate perché non abbiamo ancora messo mano a quelle inedite ce ne sono una grande quantità tra manoscritti e dattiloscritti quindi dicevo nel momento in cui abbiamo cominciato a leggere poi correggevamo le bozze abbiamo pianto, abbiamo riso ed è stato veramente un momento bellissimo e quindi è stato solo in quel momento in cui io mi sono resa conto che il mio era un nonno diverso da tutti gli altri era un nonno speciale ed era speciale intanto per la sua intelligenza che io definirei esagerata per la sua generosità, il suo altruismo e il suo amore per il prossimo lui era capace di incontrare un mendicante per la strada e portarselo a casa e farlo sedere a tavola e la cosa ancora più straordinaria era che mia nonna lo accoglieva con la stessa generosità senza fare una piega era speciale come diceva padre Rizzo per come amava la famiglia mia nonna sempre in testa ma anche noi io se mia sorella recupera una fotografia vorrei fare vedere questo amore sconfinato di mio nonna e mia nonna il giorno delle loro nozze ma molto meglio di me lo dice una dedica fatta appunto a mia moglie e ai miei figli su Fiabbe Fiabbe pubblicato da Santi Andò nel 1912 che poi è quella che ha avuto la prefazione di Giuseppe Pipitone Federico e la dedica a recita così a mia moglie e ai miei figli donna sei tu che conosci di quale tormento sia tessuto il mio sterile lavoro in arte strappato così com'è giorno per giorno non dico al mio riposo ma alle vostre distrazioni innocenti ai nostri affetti gentili per tutto questo tesoro che la mia ansia implacabile va tolto vi toglie e forse vi toglierà sempre io dedico a voi magrissima mercede questo libricino che per un mese mi ha fatto risuonare nelle più fonde radici del cuore il rammarico della nostra annina babbo ma sempre lavori vieni un po' con noi il dono val poco lo so eppur ve l'offro in ricordo con infinita adorazione di marito e di padre Vanni Pucci ecco questa è la fotografia perché quest'amore durò tutta la vita questa è la fotografia delle loro nozze d'oro e dalle loro espressioni si può vedere in effetti che non vi ho mentito questo progetto ha consentito se vogliamo vedere l'altra fotografia a riunire quasi tutti noi nipoti c'è l'altra fotografia dei nipoti? in questi ultimi tempi incontrandoci è successo che ognuno accanzava il diritto di essere lui il nipote prediletto ma è stato in quel momento praticamente dopo una vita che ci siamo resi conto che era il nonno che faceva in modo da farci sentire ognuno il nipote prediletto in realtà lui ecco questa è la foto di tutti i nipoti qui sono presenti Mario Marisa Sandro Marita non c'è Giuseppe purtroppo non c'è i nonni naturalmente io sono inginocchiata proprio sotto il nonno che mi tiene la mano sulla spalla poi subito dopo c'è mia sorella sotto Enzo che ho visto adesso che sono molto felice che è venuto e Giovanni questi eravamo ancora non c'era Federico perché non era nato è arrivato dopo e Mario l'ho detto il primo di tutti sì e Gianni l'ultimo sì in realtà quindi non c'era un nipote prediletto lui ci amava tutti in uguale misura e lo faceva con l'ascolto lo faceva informandosi sulla nostra scuola sulla nostra vita ma anche insegnando ad ognuno di noi un qualche cosa di speciale e in modo speciale a me per esempio fece conoscere la materia che io poi avrei studiato al liceo all'università utilizzando come foglio di carta come foglio di disegno il vetro della finestra mi faceva ricalcare con un pennarello i contorni delle immagini che si vedevano oltre ovviamente quando queste immagini erano trasferite sul vetro avevano ognuno una misura differente a seconda della distanza che avevano e lui a questo punto me la presentò vedi figliuzza mia anche mia sorella ricorda il figliuzza mia questa è la prospettiva se capisci questo tu capisci tutto del disegno ma non erano soltanto pomeriggi di lezioni erano anche pomeriggi di giochi e di burle come quando ritagliava con le forbicine la carta nera lo scarafaggio con tanto di antenne e zampette e ce lo consegnava a noi bambini per farci atterrire qualche malcattimento è capitato in famiglia oppure erano i pomeriggi dei quiz aritmetici padre Rizzo qui ricordo le sue ciliegie a noi improvvisamente ci guardava e ci diceva quanto fa uno più due più tre più quattro più cinque con una velocità incredibile per cui noi volevamo rispondere con la stessa velocità però dopo un conto delle nostre dita dietro la schiena non riuscivamo e ci arrendevamo a quel punto lui ci spiegò che aveva trovato un trucco che era quello di contare le piastrelle del pavimento quando erano messe a piramide per cui aveva trovato un trucco per fregare tutti e farsi dare e avere la risposta per primo questo trucco in che cosa consiste per esempio nella sequenza da uno a cinque basta moltiplicare l'ultimo numero della sequenza per il successivo quindi cinque per sei trenta dividere il prodotto per due e si aveva quindici tutto questo era prodotto dal suo studio dalla sua mente e di questi quiz ce ne somministrava decine e noi eravamo tanto sorpresi che ancora ce lo ricordiamo ma questo ruolo di nonno non è che lui lo esercitava solo con noi nipoti lo esercitava con qualunque altro bambino o ragazzo che incontrava a testimonianza di questo c'è una graziosissima dedica di un altro libro fatta alla figlia di un suo collega d'ufficio la dedica è nel taglialegna che è un romanzo per ragazzi illustrato da lui e pubblicato da ben porad e figlio editori firenze 1920 alla gentile signorina iolanda sanseverino signorina si parla tanto spesso di voi col vostro ottimo padre mio compagno di lavoro e amico che io mi sono interessato sempre della vostra ansia lodevolissima distruirvi e cordialmente rallegrato dei vostri rapidi progressi so anche del vostro disprezzo per tutte le cianfrusaglie luccicanti onde ancora la donna crede di distinguersi e di piacere e questo sentimento in voi non è che l'effetto dei buoni studi sicché a me è caro offrirvi un tenue tributo di ammirazione e perciò dedico al vostro nome questa favola che forse vi farà sorridere e anche un po' pensare Vanni Pucci quando invece tornando ad essere il nonno di noi nipote di noi nipoti naturali c'è da dire che riunendoci abbiamo fatto una raccolta di amar cord perché ognuno costudiva un ricordo un episodio un aneddoto e ti ricordi quando la nonna una sera si andò a coricare guardo mio cugino Mario e l'indomani mattina quando si svegliò trovò le pareti del salotto affrescate con scene di caccia e ti ricordi quando a un esame di disegno consegnò una volta a crociera che a differenza dei disegni degli altri era interamente affrescata e con tanto di prospettiva e quando il professore obiettò ma questo lei lo ha portato da casa non l'ha potuto fare qua e lui per tutta risposta si fece dare un altro foglio e la rifece seduta stante uguale e ti ricordi quando nel suo studio metteva sul tavolo 5-6 fogli tutti contemporaneamente e li cominciava ad acquerellare con i personaggi delle sue fiabbe e se gli finiva il colore era capace di intingerlo nella tazzina da caffè e ti ricordi quando lo trovavamo con la faccia tutta impiastricciata di colori perché aveva usato la pezzuola dei pennelli per asciugarsi la fronte e sì ce lo ricordiamo ce lo ricordiamo tutti e sorridiamo perché siamo orgogliosi di com'era questo nonno così al di sopra delle cose banali della vita perché lui non poteva occuparsi di tenere il fazzoletto in mano era una cosa troppo troppo terrena così come non si occupava del suo successo infatti non era quello che gli interessava in nessun campo né nel campo del teatro né nel campo della letteratura perché era troppo concentrato a trasferire al suo pubblico piccoli o adulti che fossero i valori in cui aveva sempre creduto prima di chiudere voglio aggiungere una sola cosa è inutile legare e ce lo siamo anche detto che questo straordinario artista stava inesorabilmente scivolando verso l'oblio per fortuna siamo arrivati in tempo ma se fino a oggi anzi ora possiamo dire se fino a ieri Vanni Pucci non era più popolare al tempo in cui visse era talmente conosciuto talmente celebrato talmente applaudito che succedeva anche quello che vi leggerò adesso ed è l'incipit di un articolo di Nino Ferraù apparso sull'Eco del Parnaso Napoli nel giugno del 57 e dice questo alcuni mesi fa uno dei più grandi editori italiani impostò una lettera con questo indirizzo a Vanni Pucci Palermo la lettera ritornò al mittente con la dicitura sconosciuto l'editore allora impostò nuovamente la stessa lettera senza aggiungere né via né numero ma scrivendo sulla busta soltanto una parola vergognatevi punto esclamativo così finalmente la lettera venne consegnata bene adesso che ho veramente finito passo la parola agli attori Giuseppe Moschella e Manuela Mulè che leggendo alcuni sonetti ci daranno anche il pensiero perché attraverso i sonetti che scriveva il nonno si poteva capire qual era il suo pensiero l'atteggiamento nei confronti della vita e quindi ormai possiamo tutti dire che questo era veramente molto molto speciale noi grazie a tutti Grazie.